ciao ragazzi bentornati sul mio canale oggi farò vedere la recensione di un mazzo di carte che mi ha stupito sotto tutti i punti di vista ovvero le kittens di medicine sono veramente un gioiello che mi hanno veramente fatto rimanere a bocca aperta quindi guardate questa recensione scoprirete perché secondo me queste carte sono le migliori carte per i prestigiatori vi lascio in descrizione il link per poter acquistare queste carte vi ricordo che sull'asso nella manica puntocom con il codice alle magic se avrete diritto a un 10 per cento di sconto immediato in più vi ricordo che uscite il mio primo effetto in vendita sempre sull'asso nella manica puntocom e anche di questo vi lascerò tutto in descrizione quindi detto questo passiamo subito alla recensione delle kittens allora vediamo subito come si presenta la nostra scatolina come possiamo vedere nella parte anteriore abbiamo il nome delle carte ovvero kittens playing cards in questo stile ricamato con dei colori che vanno dall'azzurrino al rosa come possiamo vedere qui c'è un ricamo di un gatto perché appunto queste carte avranno come tema appunto i gatti nella parte laterale abbiamo la scritta medicine perché queste sono le carte di medicine delle carte pazzesche che io non mi immaginavo minimamente che fossero così sia per qualità che per altre cose che adesso vi farò vedere in questo video qui abbiamo delle zampe di un gatto sempre in stile ricamato qui abbiamo appunto la distribuzione ovvero dell'uso list playing card infatti per questo vi dicevo che la qualità è pazzesca così come nella parte alta del nostro astuccio quindi nella nostra linguetta abbiamo la scritta traditionally cut playing cards made in usa e infine come vedete nella parte posteriore abbiamo il logo di medicine sempre in stile ricamato come andiamo ad aprire l'astuccio abbiamo la prima sorpresa ovvero abbiamo un set di cuori quindi una previsione o comunque una carta scritta che potete creare veramente grazie alla vostra fantasia diversi effetti quindi sfruttato queste due linguette per farci una magia come prendiamo subito le carte in mano ci accorgiamo che la qualità è veramente pazzesca come nella maggior parte delle carte dell'illusionist le kittens hanno una delle migliori finiture presenti sul mercato sia per morbidezza che per scorrevolezza sono veramente fantastiche la giusta morbidezza che serve per un mazzo di magia perché queste carte sono state realizzate appunto per scopi magici perfette per la magia non solo per il tatto ma a 360 gradi e adesso vi spiegherò il perché quindi cominciamo subito con la recensione del dorso di queste carte come potete vedere il dorso si descrive da solo abbiamo questi quattro gattini o meglio due perché un effetto specchio di cui uno all'interno del cestino con i gomitoli di lana e l'altro si trova all'esterno il tutto con un bordino con un effetto floreale quindi una ghirlanda di fiori e lo sfondo è come la trama della stoffa color rosa quindi molto particolare e volevo dirvi già guardando questa carta che sono segnate chiaramente adesso io non so se a questa distanza vedete che le carte sono segnate comunque non posso rivelarvi dove sono segnate ma questa carta è l'asso di picche sono segnate proprio per seme e valore però di questo non posso purtroppo rivelarvi in che modo quindi se avete un buon occhio potete capirlo da soli proviamo con un'altra carta ok per esempio questa allora questa carta è un 5 di fiori vado a vedere 5 di fiori quindi sono segnate perfettamente seme e valore quindi passiamo subito con la recensione appunto delle carte allora qualità è eccezionale su questo non vi potete sbagliare forse le associerei alle orbit ma forse un pochino meglio allora abbiamo dei semi abbastanza standard però come potete vedere all'interno abbiamo questa trama come se fossero di marmo quindi molto particolare quindi il rosso è tendente sul marroncino più o meno in stile monarchs come potete vedere poi abbiamo le figure con questo rosa abbiamo questa scritta va bene passiamo avanti allora abbiamo il primo asso di picche il primo perché come ho fatto vedere nell'unboxing si presenta una bellissima gaff con questa carta che poi adesso vi farò vedere quindi tutto standard le figure appunto hanno questo colore rosa all'interno anche i fiori che è tutto standard gli assi come potete vedere non sono molto grandi e finiamo con appunto il re di quadri dopo il re di quadri abbiamo delle carte gaff veramente particolari tanto particolari che alcune di queste carte gaff sono in vendita singolarmente invece in questo caso le avrete comprese nel mazzo di carte vi faccio vedere di cosa sto parlando avete presente l'effetto il gioco delle tre carte ovvero dove lo spettatore deve trovare l'asso di fiori beh potete farlo con questo mazzo quindi a spese 0 o meglio adesso che prestigiatore lo sa abbiamo una doppia carta ovvero l'asso di fiori e il tre di quadri quindi quella magia dove lo spettatore deve trovare appunto l'asso di fiori che faremo vedere ovviamente in questa maniera quindi 1 2 e asso di fiori quindi mischieremo poi sul tavolo quando lo spettatore dovrà ritrovare l'asso di fiori faremo vedere solamente carte rosse quindi lo spettatore sbaglierà sempre e quindi noi vinceremo sempre le nostre sfide quindi il classico gioco delle tre carte poi passiamo alla seconda carta gaff ovvero un 9 di fiori voi state pensando vabbè normalissimo 9 di fiori sì nella faccia ma nel dorso abbiamo un quadrato di di questa carta ovvero delle 9 di fiori quindi potete veramente sbizzarrirvi con la vostra fantasia grazie appunto a questa carta ovvero potete strappare un angolino e poi buttarla nel mazzo e come potete vedere si stampa appunto sul dorso quindi anche con questa potete realizzare veramente tantissimi effetti un altro 9 di picche voi sarete pensando e che cosa c'è di strano questo 9 di picche beh semplicemente anche questa nel dorso potete vedere che mancano i gomitoli di lana quindi se io vado a vedere il primo 9 di picche perché il primo 9 di picche ha i gomitoli di lana quindi magicamente facciamo sparire quindi scomparire i gomitoli di lana quindi anche questa veramente un'idea molto carina e per finire come vi dicevo un simpatico asso di picche dove si è pappato questa cornacchia che si vedeva qui sopra quindi molto simpatica quindi anche con questo possiamo fare degli effetti ovvero facciamo focalizzare allo spettatore questo uccello che si trova qui sulla destra e poi magari con uno scambio di carta con un change facciamo vedere che il gatto si è mangiato appunto quell'uccello che si trova qui sopra quindi sono delle carte veramente complete per la cartomagia con un semplice mazzo abbiamo carte segnate tantissime carte gaff una scatolina che ci consente di fare appunto una previsione la qualità super mega fantastica cioè inizialmente le avevo anche regalate a giusy poi quando sono andato a toccarle con mano mi sono reso conto che queste carte sono veramente ottime quindi non potevo che non farvi questa recensione quindi ringrazio max per avermi fatto scoprire queste carte vi ricordo che potete acquistarle sullo store lassonellamanica.com e con il codice alle magic se le avrete con un 10% in meno quindi le carte di medicine ovvero le kittens perfette per la cartomagia